Sì? No, io non credo. Secondo me io lo derà parecchio il culo. Amadeus è interista. Infatti ieri al suo programma uno ha detto Forza Inter e lui ha fatto l'applauso. E la cosa divertente è che tutto il pubblico ha applaudito, ma secondo te il pubblico è stato pilotato o erano tutti interisti? Quindi tu mi stai dicendo che il pubblico di Amadeus non ha un suo pensiero, una sua volontà, una sua scelta. Cosa ha un tizio col fucile che gli obbliga a fare tutto quello che dice il presentatore? E tu se stavi tra quel pubblico avresti applaudito dopo un Forza Inter? Minchia, l'unico del pubblico che non applaudiva. Perché mai? Vabbè ma quelli l'hanno fatto perché è stato ordinato, è stato imposto dal dittatore. E se lavori in un bar e ti ordinano un cradino e che gli dici? Vaffanculo! L'hai fatta apposta? Eh lo so, tu stai pensando all'URX in questo momento. E alla sua profondità d'animo, ti capisco. È un pensiero che ci facciamo tutti. Cosa si sconde? Ma contro chi giocate stasera? Eh? Davvero? Fategli il culo, eh. Ma la vostra vittoria sulla Lazio avrà qualche esito sulla classifica dove siamo noi, dove sono loro? Ma chi se ne frega di voi? Io sto parlando della Lazio e della Roma. Cioè se vuoi battere la Lazio, la Roma potrebbe superare la Lazio. Servite a un cazzo, porca puttana. In che senso ne siamo serviti? Eh, vi ha fatto il favore. Allora vuoi distruggere la Lazio per sport? E' così forte l'Inter? Eh, e come mai noi abbiamo pareggiato? Quanto abbiamo pareggiato tra l'altro? Minchia, manco un gol. Madonna. Brutta storia. Vorreste prestarci qualche cheat, va, così vinciamo anche noi facili. Non è quello che dice tutto il resto del genere umano, però va bene. Di Balotelli? E che ne sai? Magari vuol conoscere. Lui è apprezzato e ammirato da tutti. Nessuno si metterebbe contro Balotelli. Tutti lo temano. Eh, lui non è il principe. Infatti quando fanno i cori dicono Vogliamo essere come te? Vogliamo essere come te? E lui fa un applauso con i testicoli. Cioè, la gente cazzuta la trovo a livello di difficoltà 1, capito? Sto facendo il livello di difficoltà 1 per farmi, per far prima e trovo uno cazzuto. Però è giusto. Tutto molto normale, eh? Poi a livello di difficoltà 3 trovo le pippe. Sì. Sì. un post, una andata le mancano 89 è un male che non c'è il consumo di stamina quindi posso farlo tutte le volte che voglio ma l'hai vista adesso? l'ho fatta vedere ora non ho visto niente di che color era la barra del nemico fregato la connessione si è persa ricerchiamo perché? ma è della partita non è della live la live la vedi? me l'ha trovata adesso che ho preso vediamo se lo riconosci ma chi? perché? sei pazzo? che cazzo fai? vabbè soffia no? non ci riesci è facile se poi poi trovo un tutorial come si soffia allora lo vedi il mio personaggio chi è? è la mia versione preferita di lui ho anche la figure gigante che avevo comprato stai vedendo? quindi chi è il personaggio che ho preso? mi stai vedendo? ma sei proprio un bastardo dai l'hai visto? non è che sto un cazzo bravo bravo è lì che ti volevo volevo proprio sentirla quella cosa un dilettante lo sai cosa avrebbe detto? hai preso Vegeta? no! hai preso Magin Vegeta sì lo so ma sai come è tanta gente come sono grossolani no? un po' uno va prendi Golden Chiro non è non dicono Golden Freezy oh hai preso Freezer no ho preso Golden Freezer eh sì ah è vero ho vinto quindi meno uno 88 allora per dire di tempo quando devo trovare il giocatore perché sennò come hai visto vola che è una meraviglia dopo più allora il giocatore poi le Io questa sera dovrei avere il brodo di fagioli, mi aspetto a una notte di scureggio potente. Pizza Hut. Cioè mi ha entrato il giocatore e fa connecting, ma dai ma che problemi hai? Che palle. Non li vogliono proprio sistemare si serve, pure il pvp era messo così. Vedi queste sono quelle cose che rallentano, capito? Se no parte la partita gli facciamo il culo ed è finita. Niente mi tocca riapire il gioco. Affanculo va. Ah, c'è il rumaciano sul cappello. Vediamo un po'. È una truffa, non sta più sul cappello. Ma perché si mette sempre un cappello in testa? Ma che problemi hai? Vai a vedere. Sì. Sì. Madonna mia. Ti consiglia proprio bella gente, mi dico. Mi mette sempre i cappelli perché ha problemi alla testa. Con quella faccetta pedofilia. Vedo delle robe però. C'è un peluche. Maiale che cazzo è? Ah, quindi c'è barriere. Hai visto un verasino qua in testa. Esatto. Cosa Manu? Con la sedia, eh sì. Ma tu non sei un preservativo. Credo. Ripeto, credo. Magari mi sbaglio. Eh, brava. Te lo spiegherai. Sì? Va bene, allora più... Ah, senti, fai una cosa prima di andare. Scrivi a Marta. Dì, io se vuoi passare in chiamata c'è Valentino. Ah, va bene, allora sentiamo più tardi, ok? Va bene, d'accordo, grazie. A più tardi, buona partita. Ma mi vuoi trovare, sto cazzo di giocatore? Ma così ci metto 60 anni, ci metto. Tu la ti vogliono. Mai dire Mike. 88 volte, oh. Ci affitto tutta la notte a farlo 88 volte. Anche lespia... Anche le spinne la notte a faro 88. Ma la sua fé... Va bene, ti Didi? Di 광i inTERN. Questa. 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 no oddio questo lo devo dire subito no 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 porco è proprio un porco tre tre volte al giorno scirocco tre volte al giorno scirocco e lo metti nella scala un momento qua sono un attimo perso ok 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 Sì 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 fantastico ok 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 Grazie a tutti 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 Vediamo se riusciamo a livellare qualcuno Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Dopo Grazie a tutti 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 Una delle Grazie a tutti 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 Un lavoro Grazie a tutti 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 Ci sono Grazie a tutti 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 Buon Grazie a tutti 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 Lo stronzo Sì? Grazie a tutti 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 con te Grazie a tutti Grazie a tutti TG Grazie a tutti 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 Dillo Grazie a tutti 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 Ti sto sto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh ma Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti Ho sentito Grazie a tutti 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 Un giorno Grazie a tutti 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 Su Grazie a tutti 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 Mentre Luigi Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tanto Grazie a tutti 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 Dai dai Grazie a tutti Steven Steven Spielberg Grazie a tutti Tu tu Ti emozioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Trazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Te Grazie a tutti 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 Vai a tutti Vai a tutti Grazie 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 a tutti Dopo questo Grazie a tutti 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 Che non è Grazie a tutti 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 Ci si Grazie a tutti 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 Tu tu Grazie a tutti 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 Capito Grazie a tutti 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 Questi Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Torino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tu Grazie a tutti 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 Vediamo se Grazie a tutti 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 Grazie a tutti